Via gli insubordinati, non pochi scambi di poltrone ed entro qualche volto nuovo. Il premier greco Alexis Tsipras punta su un atteso rimpasto per accelerare il cammino delle riforme e rilanciare l'immagine del suo governo. Confermati, tutti i principali ministri che, al pari di quello per le finanze, Euclid Sakalotos, sono coinvolti nei negoziati con i creditori internazionali. Centrale della strategia, la promozione al di Castero Chiave delle riforme dell'ex numero uno del suo ufficio economico Dimitris Liakos, mentre tra gli intoccabili, insieme a Panos Kamenos, figura anche il titolare degli esteri Nikos Cozzas. Promozione poi per Yannis Musalas, che guadagnati galloni sulle spiagge degli sbarchi, ottiene per il suo ministero delle migrazioni uno statuto indipendente da quello degli interni.